ferita un po' quindi dimmi tu quando siamo in diretta vai tranquilla se tu vuoi cominciare puoi cominciare adesso in diretta vai buonasera e benvenute a tutti e a tutti a questa seconda serata online del lessico sociale parola delle parole della pandemia due seconda serata promossa dalla fondazione Sasso Corbaro con il patrocinio della commissione di etica clinica dell'entospedaliero e della città di Bellinzona io sono Martina Malacrida Nembrini direttrice della fondazione Sasso Corbaro il titolo della serata di oggi è io resto a casa la società tra libertà individuale responsabilità collettiva e saluto Lina Bertola che è la nostra relatrice Lina Bertola che è filosofa e docente ha insegnato filosofia al liceo di Lugano 1 e etica all'UF collaboratrice scientifica del laboratorio di epistemologia e didattica delle scienze all'Università di Ginevra dove ha tenuto lezioni ad invito mi piace ricordare tra i suoi testi parole della vita per un'educazione all'etica edito da Ericsson del 2014 e so che ha in pubblicazione un libro dedicato al femminile come approccio alla vita. Nina Bertola oggi però ci parlerà di libertà individuale e responsabilità collettiva lo farà attraverso chiamiamole quattro punti quattro stazioni quattro prodi come piace eh chiamare alcune cose anche in fondazione Sasso Corbaro e la prima è la visione del io resto a casa come limite e come chiusura e la visione di libertà individuale che le corrisponde con la seconda ci proporrà alcune proposte di un altro significato possibile di queste parole della pandemia e di conseguenza come terza in relazione a questo racconto altro ci spiegherà come la libertà possa assumere un altro significato e per finire ci spiegherà la difficoltà a partecipire la libertà come autonomia. Vi ricordo per chi avessele delle domande da porre alla nostra relatrice le potrà fare le può scrivere durante e dopo la relazione attraverso la chat di di zoom per chi è connesso con zoom e attraverso la chat di facebook per chi è connesso in live dalla nostra pagina facebook ci tengo anche a ringraziare la regia tecnica che in questo momento è invisibile ma è assolutamente necessaria che Anais Martignoni collega alla fondazione Sasso Corbaro. Grazie Lina di aver accettato questo invito e ti lascio subito la parola. Grazie Martina buonasera a tutti grazie per la presentazione e anche per avere dato così una cornice eh necessaria in fondo ad alcune considerazioni eh alcune finestre diciamo che vorrei aprire attorno attorno a queste parole della pandemia e soprattutto attorno alle quelle che possono essere le conseguenze dei dei racconti che noi facciamo della pandemia proprio sul tema centrale che è quello della relazione tra la libertà individuale e una responsabilità collettiva che sono altre parole molto importanti e molto sentite in questa in questo momento difficile ecco io comincerei con il richiamare da dove vengono queste parole della pandemia eh io resto a casa perché queste sono parole assertive pronunciate in prima persona e poi sono state anche ci hanno accompagnato in questi mesi attraverso le testimonianze in diretta nei vari media la televisione di persone più o meno conosciute però queste parole vengono da forme precedenti di comunicazione che io vorrei eh eh così ricordare che sono state pronunciate proprio con un registro diverso io credo che all'inizio inizio di marzo o fine febbraio quando eravamo tutti molto disorientati da questa cosa che ci ha salito improvvisamente eh abbiamo eh avuto del messaggi con un approccio imperativo tutti ricorderanno e non lo dico per richiamare qualcosa che poi ha creato polemiche ma solo perché mi è importante per vedere poi come si è evoluta la comunicazione tutti ricorderanno quel andate in letargo che fu detto eh eh a proposito degli anziani che poi però è stato prontamente eh modificato in una raccomandazione state a casa quindi andate in letargo state casa e adesso questa diversa modalità comunicativa molto diversa che io resto a casa ecco io credo che questo retroterra comunicativo che ho rapidamente accennato abbia avuto in qualche modo un influsso su quella che è la percezione più 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 diffusa di questo io resto a casa come una situazione di privazione di chiusura di limitazione non sto tanto adesso a diciamo di dilungarmi su come è vissuto questa negatività tra tra molte virgolette dello stare in casa perché penso che tutti quanti da qualche parte ne abbiamo provato almeno una piccola atmosfera mancanza rinuncia è una parola che va molto in questo periodo sacrificio quindi questo lo sentiamo si è fatto sentire con forza e purtroppo le cose non stanno andando molto bene lo sentiamo ancora quindi non mi dilungo su questo ma piuttosto quello che questa questo racconto che ho solo accennato eh dello stare in casa nella nella sua forma a fondo più dolorosa è strettamente collegato con una precisa visione della libertà e dunque con una precisa relazione tra libertà individuale e responsabilità collettiva la visione della libertà che è in gioco qui è la libertà come permesso io ho il permesso di fare alcune cose io sono libero quando non ho divieti io sono libero anche però quando non sono obbligato quindi non proibizione non obbligazione e infatti questa libertà è chiamata libertà negativa quanti più permessi ho tanto più sono libero quindi tanto più quanto più libertà negativa ma anche eh libertà quantitativa è una quantità la libertà è una quantità che di territorio che io posso allargare o rinchiudere ma che comunque è una mia proprietà personale ecco questo è molto importante questa è una visione della libertà molto diffusa e riduttiva come vedremo ricordo che quando ne parlavo con i miei studenti al liceo spesso facevano eh questo esempio eh quando io chiedevo che cosa volesse dire per loro essere liberi ma il mio compagno di banco è più libero di me perché può rientrare alla una di notte invece io devo rientrare alle undici quindi sono meno libero quindi vedete questa libertà come una quantità di eh proprietà del tutto del tutto personale ecco allora questo tipo di libertà intesa come permesso poi ci mette in una relazione un po' molto particolare con la responsabilità collettiva noi dobbiamo fare i conti noi individuo nella nostra proprietà privata della libertà dobbiamo fare i conti con quella con la collettività e con e quindi con i bisogni con le libertà dell'altro è quello che noi spesso diciamo eh quando diciamo la mia libertà finisce quando incomincia la libertà dell'altro che a me non piace tanto come dicevo prima è perlomeno è riduttiva ma forse è anche eh fuorviante come percezione della libertà quindi a questo punto in questa visione della libertà la domanda etica è quella di accettare di accogliere queste limitazioni queste privazioni come un limite ma attenzione questo è molto importante un limite che mi viene proposto se non addirittura imposto dall'esterno non un limite che nasce dentro di me ma un limite che mi viene per così dire proposto o imposto dall'esterno ecco questo per quanto riguarda la prima finestra ora però come già accennava Martina vorrei accompagnare queste parole della pandemia con un'altra possibile lettura io vorrei attraversarle con un altro sguardo vorrei tentare una specie di trasformazione dell'esperienza dell'io resto a casa che in mezzo a tante sofferenze tanti dispiaceri tanti dolori ansie paure potrebbe chissà forse offrirsi anche come una risorsa una risorsa in attesa un'occasione per metterci allo specchio del nostro vivere e quindi io vorrei semplicemente illuminare o allargare la luce sull'orizzonte di senso che senso ha per me per il mio vissuto interiore quello che sta accadendo a me e agli altri a quelli che mi stanno attorno io ho sempre pensato che la filosofia sia soprattutto domanda domanda di senso che non richiede necessariamente una risposta una risposta immediata ma che in un certo senso a me piace chiamarla una bussola una bussola per orientare preziosa per orientare un po la comprensione di quello che stiamo vivendo di chi siamo conosci te stesso e c'è un fil rouge che ci viene dall'antichità io resto a casa vado dunque a illuminare questo o comunque a iniziare questo racconto altro restare significa fermarsi non procedere oltre e io questo senso del restare vorrei affidarlo ho trovato una brevissima citazione di Petrarca come uomo che per terra in dubbio cavalca che va restando va restando ad ogni passo e guarda ecco io credo che in questa breve citazione si sente proprio la potenza del senso del sostare del sostare riflessivo ecco sostare restare significa abitare il tempo nelle sue durate sostare dentro il cammino della mia vita sostare in un presente che per dirla con Agostino è il presente del passato ed è il presente del futuro un presente che non è nutrito di memoria ed è nutrito di progetto ecco questo è il significato profondo del tempo del restare ma questo significato profondo del tempo del restare mi sembra oggi piuttosto silenzioso ed estraneo anche forse al nostro al nostro vissuto del tempo non è facile sostare nei tempi dell'anima in questo mondo che ci convoca tutti a vivere in un tempo reale un tempo reale che inghiotta il tempo che è un continuo riproporsi del presente continuo riproporsi del presente assoluto sempre sempre presente questo bisogna considerare una cosa secondo me molto importante attorno al vissuto del tempo tutte le epoche storiche hanno dato senso all'esistenza umana in rapporto al tempo il mondo degli antichi percepiva il tempo come ciclicità e gli uomini percepivano il senso della loro esistenza dentro questa immagine situazione di un tempo ciclico poi le religioni pensano il tempo della trascendenza allora qui è evidente come il senso dell'esistenza sia collegato a una visione di trascendenza la modernità ha pensato il tempo lineare nella storia e il tempo del progresso e questo tempo della modernità nutre ancora la nostra cultura io sono d'accordo con abermas che dice sempre che dice che la modernità è un processo incompiuto sono non credo che viviamo nel post moderno ma questo è un piccolo inciso noi abbiamo ancora dentro questo nutrimento del tempo solo che nella realtà che viviamo oggi di un tempo tutto esibito che si esibisce continuamente sulla scena del mondo in modo simultaneo in modo così frammentario non riusciamo a entrare in questa dimensione del restare come vissuto della propria intimità noi diciamo che non abbiamo tempo lo diciamo sempre perché questo tempo è ingannevolmente veloce in realtà è un tempo fermo su se stesso che si ripete in continuazione e questa ingannevole velocità noi non abbiamo tempo ma in realtà è che noi non sappiamo stare nel tempo allora questo resto a casa in questa luce che sto un po' raccontando potrebbe essere un invito a ricongiungerci con il tempo del nostro esserci con il nostro tempo intimo in cui sperimentiamo la nostra singolarità in cui sperimentiamo anche la nostra verità verità non come cosa vera non come corrispondenza tra ciò che dico e ciò che è verità nella sua accezione primordiale costitutiva come l'essere veri è la verità del mio stare al mondo è un invito a restare in contatto con noi stessi nella nostra casa e vengo alla seconda parola casa la casa è una metafora veramente potente che mi permette proprio di andare avanti in questo percorso direi dentro un sentimento di intimità dentro un sentimento di intimità nella nostra casa interiore proprio perché è in questa casa interiore che noi possiamo sperimentare questo difficile oggi sentimento di intimità mondo esibito tempo presente reale tutto fuori ecco l'intimità è una dimensione che a me penso provoca un po' di nostalgia qualche volta perché è qualche cosa che ci in qualche modo sfugge e così questo stare in casa nella propria nel proprio sentimento di intimità significa anche poter esplorare così spazi nascosti dimenticati della nostra vita proprio come quando apriamo un cassetto e troviamo cose che avevamo dimenticato o che forse non sapevamo nemmeno di avere casa è oikos in greco ed è l'etimo più bello per me più profondo della parola etica perché esprime il significato più radicale dell'etica l'etica come abitare la vita come nostra dimora interiore che ci permette di aprirci al valore intrinseco della vita che precede i valori noi parliamo spesso di etica come insieme di valori di un'epoca di una società di una cultura ma prima dei valori c'è il valore intrinseco la vita e questa oikos questa casa interiore la ritroveremo tra poco in questa nuova in quest'altra visione di libertà questa questa casa interiore è proprio la radice dell'etica ma penso che la cosa si intuisca facilmente come è molto difficile per noi percepire la durata del tempo è anche difficile questa esperienza del sentimento di intimità ho già ho già accennato che noi siamo tutti un po' convocati a esibirci in questo mondo spettacolo in questo continuo mercato dell'apparire adesso esagero evidentemente anche perché mi piace mettere un po' in contro in contro luce questo mondo rispetto a questa a questa densità di senso del del mondo che sto che sto cercando di raccontare è tutto fuori è tutto esposto anche noi siamo quasi obbligati a esibire frammenti pensateci quando noi andiamo nei social quando noi comunichiamo pubblicamente questa esibizione continua di frammenti della nostra identità anche quei frammenti che consegniamo al nostro cellulare per esempio ecco io credo che queste difficoltà non neghino per così dire la possibilità comunque di trovare dentro di noi delle risorse e per fare questo per confermare per confermare per argomentare questa fiducia nella possibilità di entrare in contatto con la nostra intimità vorrei fare un paio di esempi di posture che possiamo assumere nei confronti della nostra esistenza vorrei parlare della solitudine perché è un'esperienza chiaramente che abbiamo fatto nel nostro stare a casa è una solitudine dolorosa è una rottura dei rapporti è un'interruzione dei legami è un'interruzione di gesti condivisi a cui eravamo assolutamente abituati e che davano il senso alle nostre giornate allora in questa sofferenza legata alla solitudine come sentirsi soli io vedo una grandissima rivincita della fisicità è il corpo che urla la sua anima che si sente solo e questa rivincita della felicità io spero che rimanga anche dopo questo periodo difficile perché nel mondo virtuale noi abbiamo mortificato molto la nostra le nostre relazioni nella fisicità si parla tanto oggi di inganno dei sensi nelle esperienze virtuali si parla tanto di emergenza affettiva legata proprio a questa mancanza di una vera fisicità io sto sul divano gioco a tennis ma il mio corpo è fermo il mio corpo non si muove e quindi non c'è una vera esperienza del corpo ecco quello che mi sembra interessante proprio ritrovare anche in questa sofferenza un elemento di riflessione sul nostro attuale modo di stare al mondo anche se poi bisogna dirlo ora stiamo parlando grazie alla tecnologia ci stiamo vedendo grazie alla tecnologia quindi ovviamente ci sono tutta una serie di versanti che arricchiscono le nostre esperienze però dobbiamo stare attenti perché da qualche parte si perde quell'esperienza della fisicità di cui abbiamo sofferto in questo sentirci soli tuttavia oltre al sentirci soli ecco l'altro l'altro sguardo c'è un saper stare soli c'è una solitudine dello stare con se stessi quindi si ricollega a quello che dicevo prima non è una solitudine subita sofferta è una solitudine accolta e coltivata e questa tra l'altro questa intima solitudine è una condizione originaria dell'uomo noi nasciamo soli e moriamo soli c'è una solitudine del sentire che ci accompagna per tutta la vita come una soglia tra me e l'altro io ti do una carezza e sento quello che provo io nella carezza attima non potrò mai sentire quello che senti tu nel ricevere la mia carezza e questa però esperienza questa soglia è anche un'esperienza generativa e di apertura all'altro perché proprio da questa soglia e da questo accomodarsi un po' nella propria solitudine nasce l'apertura all'altro perché questa è una solitudine abitata che è creativa e cito Agostino l'intimo del cuore si alimenta solo con l'apertura all'altro quindi questa capacità di stare soli non di sentirsi soli come sofferenza ma di accogliere questo stare nella propria dimora interiore io credo che sia una grande risorsa una grande risorsa che ci permette sempre nuove fioriture fioriture del legame certo ma anche fioriture della conoscenza io penso alla solitudine di Cartesio quando stava a riflettere nelle sue meditazioni che ha creato un nuovo pensiero e poi penso anche alla solitudine del sentimento poetico e Emily Dickinson ha scritto forse sarei più sola senza la mia solitudine ecco la stessa cosa accade all'altra parola di cui vorrei parlare come in fondo come postura in questo stare da soli in casa solitudine e anche silenzio e il silenzio oggi è qualche cosa che facciamo fatica a sopportare non è colto nella sua vera essenza creativa generale generativa c'è sempre un rumore di fondo lo sappiamo bene che ci dice dappertutto dove andiamo che ci dice ma no non sei solo c'è qualcosa c'è qualcuno c'è questo rumore annulliamo il silenzio poi c'è anche una visione punitiva del silenzio stai zitto quando diciamo stai zitto questo vuol dire che il retroterra di senso di questo silenzio è certamente una negatività ma come la solitudine anche il silenzio è un volto luminoso è una fonte di esperienza interiore molto interessante il silenzio è attesa il silenzio è ascolto il silenzio è contemplazione e soprattutto il silenzio è la possibilità di dare un significato autentico alle parole che dono diciamo all'altro dal silenzio nascono parole vere come dalla musica stesso che accade nella musica vorrei leggervi una frase di una bravissima filosofa luci ragarei che dice questo se la parola che pronuncio non si radica in un silenzio non è mai davvero mia questo silenzio è anche la prima parola di accoglienza verso l'altro bellissimo e credo che c'è tutto il senso di quello che volevo dire come di tutto il percorso che abbiamo fatto dallo restare la dimora interiore la solitudine e questo è questo silenzio grandioso potente ecco a questo punto questo secondo racconto mi mette in condizioni di presentare un'altra visione della libertà una visione della libertà che è strettamente collegata a quello che è diventato un po' il filo conduttore delle mie considerazioni e cioè il sentimento di intimità una forma di libertà che pesca nel nostro sentimento di intimità intimo e il superlativo di dentro e ciò che sta più in profondità e che ovviamente apre una relazione completamente diversa tra la libertà e la responsabilità collettiva non è più la libertà come permesso non è più la libertà come quantità è la libertà come qualità intrinseca all'esistenza ed è una qualità che noi troviamo proprio dentro di noi e allora ecco che non posso non ricordare la celeberima frase kantiana due cose al mondo riempiono il mio animo di un'ammirazione adesso cito memoria un'ammirazione sempre crescente il cielo stellato sopra di me e la legge morale in me io queste due cose non ho bisogno di congetturarle ma le sento immediatamente connesse alla percezione del mio esistere ecco questa legge morale è in me nasce dentro di me abbiamo visto prima una libertà che si pone come compito etico quello di limitarsi a partire da regole esterne questa libertà nasce dentro di me è autonomia è dare legge a se stesse non è una libertà da ciò che mi limita è una libertà di è una qualità io posso avere anche una sola possibilità e dire sì lo faccio no e non lo faccio e come Kant spiega questa l'esercizio di questa libertà come di questa legge morale che sta dentro di noi la spiega in un certo senso con tutta una serie di non con tutta una serie ma con tre per essere più decisa corollari e io ve ne cito uno perché è fondamentale per tutto il discorso mio ma per tutta l'etica credo agisci in modo da trattare l'umanità nella tua persona e nella persona dell'altro sottolineo l'umanità nella tua persona e nella persona dell'altro sempre come un fine e mai come un semplice mezzo è un'affermazione molto conosciuta ma che ci trappella tantissimo questo pensare l'umanità nella tua persona e nella persona dell'altro è una sfida etica oggi riusciamo a pensarci come appartenenti all'umanità pensare il mio umano come un umano condiviso da tutta l'umanità e come ripeto è una grande sfida etica però questo per dire che questa visione della libertà come autonomia ovviamente cancella un possibile conflitto o anche solo un equilibrio difficile tra la libertà individuale e la responsabilità collettiva perché in questa visione di libertà è intrinseco il sentimento di appartenenza e quindi la responsabilità verso un'umanità a cui tutti quanti insieme apparteniamo anche questa visione della libertà come autonomia così fondamentale così importante una meta secondo me a cui dovremmo cercare di educarci tutti educarci vuol dire in un certo senso compiere un viaggio interminabile nella propria esistenza ecco anche questa forma anche questa libertà come responsabilità che cancella ogni possibile conflitto tra l'individuo e la collettività è difficile oggi da sentire da esercitare da vivere dentro di sé da un lato è un fenomeno di deriva io la chiamo una deriva dell'illuminismo l'illuminismo aveva veramente puntato molto sul grande valore dell'individuo come individuo responsabile l'individuo di Kant quello di cui ho appena parlato noi oggi stiamo vivendo una diciamo deriva mi piace questa parola perché ci sono degli approdi che sono importanti nella storia dell'umanità e poi ci sono delle derive da cui però si può in qualche modo ritornare se no probabilmente non staremmo qui a fare tutte queste riflessioni a impegnarci a essere tutti quanti un po' un po' migliori la deriva è l'individualismo narcisistico di oggi questo individualismo inutile che che sto a spiegare di che cosa si tratta questa rottura dei legami io ogni tanto parlo di una regressione obesiana all'uomo homini lupus ci sono grossi problemi pensiamo anche solo al mondo del lavoro a questa guerra tra poveri al mobbing a tutta una situazione di conflittualità intrinseca nella società con le grandi disuguaglianze che ci sono e che sono sempre più evidenti per cui è molto difficile poter mantenere questo individuo senza ridurlo trasfigurarlo in forme dolorose di individualismo narcisistico poi all'interno di questa deriva culturale la pandemia ci ha messo anche ci ha messo anche del suo e io ho chiamato questa situazione un pasticcio etico nel senso che da un lato ci veniva e ci viene chiesta responsabilità individuale dall'altro lato però è stato in qualche modo siamo stati così incoraggiati ad accogliere un controllo un controllo che si rendeva che si rende forse ancora necessario dei nostri comportamenti proprio per questa fragilità del legame e del senso di responsabilità un controllo che è stato anche spesso accolto e benvenuto perché dà sicurezza però la richiesta di responsabilità la responsabilità richiede fiducia io mi fido lo sanno tutti quelli che hanno figli e che vogliono figli responsabili che la fiducia è la prima forma dell'educazione alla responsabilità il controllo invece presuppone il sospetto il sospetto che questa responsabilità tu non riesca a realizzarla fino in fondo ora è evidente che fiducia e sospetto confliggono non possono coesistere e rendono veramente più difficile più fragile l'esercizio della della responsabilità la fiducia la fiducia è è un elemento fondamentale è quella vera e aspettativa e positive per cui le cose si realizzano davvero lo sappiamo benissimo che ci sono tutta una serie di esperimenti soprattutto in ambito pedagogico che hanno messo in evidenza che quando io ho delle aspettative positive i risultati sono migliori quindi c'è tutta una logica della c'è tutta un senso della fiducia estremamente profondo nella relazione nelle nostre relazioni umane e la fiducia è anche un elemento costitutivo dell'esistenza inaugurale della vita il bambino quando nasce si affida alle braccia della mamma e io credo che noi tutti ci affidiamo alla vita e questo è un rischio ma è chiaro che questo elemento di fiducia crea legami perché ci fa sentire la nostra vulnerabilità ci fa sentire la nostra fragilità come punto come punto di forza allora concluderei dicendo che a proposito di fiducia io devo confessare che durante la prima andata avevo nutrivo veramente una grande fiducia negli effetti che questo racconto altro avrebbe potuto avere nei nostri vissuti di sofferenza come risorsa inaspettata come occasione come occasione per potere ripeto semplicemente comprendere un po' meglio il nostro stare al mondo insieme agli altri oggi devo dire che vedo tanta tristezza tanta stanchezza tanta sfiducia anche anche nella comunicazione istituzionale e poi spesso lo vediamo tutti vediamo tanta insofferenza e questi sentimenti ovviamente bloccano un po' la fiducia e io per quanto mi riguarda io continuo a credere nella possibilità nonostante le difficoltà che ho enunciato nella possibilità di dare un senso diverso alle parole perché le parole sono la casa in cui abitiamo perché noi viviamo dentro i nostri racconti e quindi proprio per mantenere questa fiducia io in questo momento non so se questo capita anche a coloro che mi stanno ascoltando mi affido un poco alla speranza che la speranza è il volto delicato vulnerabile fragile della fiducia è quella speranza che è rimasta sul fondo del vaso di Pandora è quella che Esiodo chiama il timore del futuro perché è speranza come paura che ciò in cui spero non si possa mai realizzare ecco io credo che questa speranza fragile che mostra tutto sommato la la delicata fiducia che dobbiamo comunque mantenere anche in questo momento possa intrecciarsi molto bene anche con i sentimenti tristi che in questo momento tutti quanti noi condividiamo sentimenti del nostro vivere un po' impoverito un po' mancante e anche certamente con un po' di paura per il futuro ecco io mi fermerei qui con il mio racconto grazie beh caralina io veramente è proprio spontanea ti ringrazio tantissimo veramente trovo che per quanto mi riguarda sei stata bravissima so che nei commenti è uscito già su facebook quindi ci tenevo comunque a dirtelo anche non sono sicuramente l'unica che lo pensa sto guardando se ci sono domande ma sei stata in un certo senso così chiara che probabilmente potrebbe anche darsi che non ci siano nel frattempo che aspetto delle domande se ci dovessero essere volevo ricordare perché il tuo la tua narrazione in fondo il tuo racconto attraverso le parole delle parole che sono molto legate a quello che tentiamo di fare in questo lessico della pandemia in questo percorso ma non solo mi sono ritrovata tanto e ci siamo ritrovati tanto come fondazione proprio a questa attenzione ad alcune parole che durante gli anni in questi vent'anni perché quest'anno la fondazione in fondo compie vent'anni ha tentato ha provato di portare avanti e se penso all'intimità alla speranza alla fiducia alla libertà e alla responsabilità al limite e al silenzio all'accoglienza tu ne hai citate ancora tanto hai parlato di casa hai parlato di solitudine hai parlato del sostare hai parlato del tempo hai imparato di interruzioni di legami di fisicità che manca in fondo che ormai di cui abbiamo così bisogno e di cui facciamo in fondo non ci siamo forse mai accorti di quanto è necessaria se non in questi mesi agli abbracci che di parlo io ma tutto quello che a fare a una fisicità io ogni tanto mi dico anche uno sguardo dal vivo perché alla fine ci confrontiamo attraverso questi schermi che si passa qualcosa ma in fondo siamo ancora lontani dalle sensazioni reali per fortuna aggiungerei e quindi veramente sono mi ha fatto veramente molto piacere trovo che sei stata molto chiara personalmente sento molto il tuo discorso tra una prima fase e una fatica di più in questa seconda fase che in più è una via di mezzo è un tempo sospeso è proprio un sostare difficile nello stare e trovo almeno personalmente e quindi c'è in più una fatica anche preoccupazioni economico sociali psicologiche molto più pesanti però questo questo tuo racconto su libertà individuale e responsabilità collettiva che in fondo abbiamo proprio in un certo senso l'abbiamo sempre sempre non io ma insomma si è piuttosto pensato come in totale dicotomia insomma da una parte c'è la libertà individuale dall'altra parte c'è una responsabilità collettiva quasi fossero veramente in conflitto tra di loro e quasi fossero insomma chi sta da una parte chi sta dall'altra in un certo modo ci è anche stato raccontato in un in un certo senso perché poi come abbiamo sentito anche rispetto alla scorsa volta eh c'è una comunicazione istituzionale e non ti ha portato avanti per motivi anche diversi un certo tipo di di narrazione ma questa cosa mi ha affascinato molto perché non avevo mai pensato in fondo a questo in realtà questo legame questo questa questa storia in comune tra le due tra questi due atti tra queste due parole so che c'è una domanda quindi dalla regia tecnica c'è te la leggo è di Maria Giulia Marini che è una collega che si occupa tra l'altro di medicina narrativa che sta a Milano e che saluto grazie che saluto con grande cuore spero Maria Giulia che stai bene tra l'altro e mi ci chiede cosa ne pensa della comunicazione dei media rispetto a questo percorso di crescita individuale che ci viene chiesto dalla pandemia sosta libertà tempo interiore cozzano con le notizie da fuori quindi in un certo senso scusami Lina ti do subito la parola ecco sì è vero ha ragione è chiaro che queste difficoltà che io ho raccontato come difficoltà del nostro tempo sono espressione sono espresse diciamo meglio nella comunicazione la comunicazione da parte mia è una comunicazione che non è andata al fondo di un questo racconto che faccio io da nessuna parte certo nelle la comunicazione ufficiale istituzionale di questa sto parlando poi ci sono come la fondazione come tutta una serie di altri luoghi di riflessioni che stanno facendo un lavoro bellissimo ma la comunicazione ufficiale non ha pescato niente neanche una parola di quello che di quelle di quelle atmosfere che ho cercato di comunicare quindi gioca contro certo anche questo questo continuo l'ho anche scritto recentemente questa continua informazione in modalità algoritmica con numeri che possono interessare solo agli addetti ai lavori in fondo perché non una comunicazione più propositiva più riflessiva più non dico che bisogna dire andrà tutto bene per forza perché questo magari è eccessivo non è questo non è che bisogna non deve essere una comunicazione consolatoria una comunicazione riflessiva non ansiogena questo effettivamente è un grande problema ma quello che io percepisco è che di questa comunicazione sono tutti molto stanchi la stanchezza come dici tu di questo sostare dentro questo stare in casa che è una riflessione molto bella che hai fatto c'è uno c'è un c'è un come un metadiscorso rispetto a quello che ho fatto io di questo momento così difficile più forse difficile del primo perché è un po' paesante però c'è una grande stanchezza nei confronti di questa comunicazione io so di tante persone che non guardano più il telegiornale io sul telefono ricevo continuamente i dati e tutto quanto ecco c'è un rifiuto di tutto questo che secondo me è una protezione che ci consente di andare da un'altra parte con i discorsi e con le riflessioni che cerchiamo di fare noi assolutamente penso di sì infatti Maria Giulia Marini aggiunge comunicazione ufficiale superficiale non evolutiva penso che proprio questo esattamente avete concordi su questa questa linea chiedo ancora ad Anais che è la nostra regista se ci fosse ci sono domande penso che non sia il caso a questo punto ti ringrazio nessuna domanda ulteriore quindi benissimo ti ringrazio tanto Lina ringrazio molto per veramente per la tua chiarezza espositiva e per tutto questa narrazione splendida attraverso queste parole saluto le persone che si sono collegate sia via zoom che via facebook e do l'appuntamento a settimana prossima sempre tramite gli stessi canali la settimana prossima parleremo distanti ma vicini la quotidianità nell'era dello smart living parleremo con Andrea Martignoni che è uno storico docente del liceo Lugano 2 della subsi del DFA e e anche un master in salute pubblica presso la London School of Hygiene e Tropical Medicine quindi appuntamento a mercoledì prossimo che sarà anche l'ultima serata di questo ciclo del lessico sociale non vi preoccupate perché abbiamo sempre tante idee quindi arriveremo immagino in gennaio sperando nella presenza ma se no attraverso le modalità online a proporre altre riflessioni un caro saluto e una buona serata a tutti grazie ancora Lina grazie anche da parte mia e buona serata a tutti grazie Martina